Santa serata a tutti, amici cari, fratelli e sorelle, grande famiglia, siano lodati Gesù e Maria. Avete pensato oggi un po' di più alla nostra bellissima Mamma Celeste? L'avete onorata, pregata, avete santificato il suo giorno con la celebrazione dell'Eucaristia? Maria, vorrei tanto esortarvi ad amarla davvero tanto la Madonna, tanto non abbiate timore, per quanto noi ci sforziamo di amarla, non l'ameremo mai abbastanza di quanto la ami, l'abbia amata e l'amerà il Signore Gesù. La Madonna, andando da Elisabetta e scoprendo il mistero grande che la avvolgeva, dopo aver detto il suo Eccomi, Canta la grandezza di Dio, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. E anche il Salmo della liturgia di oggi, che è il Salmo 97, invita, tutti noi ha invitato e invita a farlo questo canto. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Acclami il Signore e tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Ecco, cantate al Signore un canto nuovo. Cosa significa questo? Quanto la nostra vita è stata rinnovata da questo contatto con il Signore? Vedete, posso dirvi una cosa, ve lo dico con tutta la semplicità. Voi non dovete dimostrare niente a nessuno. Voi dovete rendere la vostra vita bella, il vostro cuore bello, perché questo dovete dimostrarlo solo al Signore e alla Mamma Celeste. Voi non dovete fare nulla per essere lodati dalla gente. Voi dovete fare tutto per essere benedetti dal Signore. E allora in questa santa serata ringraziamo il Signore per averci dato la Madonna come mamma, immacolata, bella, bellissima, attenta, amorevole, buona, che ci stringe al suo cuore. E questa sera, quando andate a letto, prendete la corona del rosario, baciatela, dite un Ave Maria alla Madonna e poi mettetevela sotto il vostro cuscino e pregate addormentandovi e addormentatevi pregando. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te e tu sei benedetta fra le donne. E' benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un abbraccio affettuoso a tutti, un bacio fraterno e se Dio vuole ci vediamo domani per un nuovo giorno, per un sabato, insieme. Vi voglio bene. Grazie. Grazie.